Grazie Presidente, colleghi. Noi ci siamo astenuti nel giudizio dell'approvazione del consultivo, nonostante che valutiamo positivamente il risparmio che è stato ottenuto di 200 mila euro su servizi e prestazioni di ricerca professionali, siamo un po' titubanti su quello che è l'importo dello stipendio del direttore che si aggira attorno ai 130 mila euro e poi abbiamo notato che ultimamente, benché non fossimo presenti in Consiglio, negli ultimi quattro anni, la presenza delle opposizioni è venuta a mancare in occasione dei convegni e dei seminari organizzati dall'IRPET. Quindi proprio il direttore Casini Benvenuti ci diceva che questa assenza delle opposizioni è di pesa dall'ufficio di Presidenza, quindi vogliamo stimolare l'ufficio di Presidenza affinché faccia sì che le opposizioni siano presenti a questi convegni. Grazie.